Hi! Dal 24 al 27 di ottobre saremo presenti alla fiera di Bologna, automoto d'epoca quest'anno con queste macchine. Abbiamo un po' di tutto, Lancia, BMW, Jaguar, Siatta, Maserati, Mini, Mercedes, Porsche ovviamente e Aston Martin. C'è anni 50, anni 60, anni 70, 80, anche 90 e le giovani, una 997. Abbiamo Mini da gara, 190, cabriolet di lusso, Maserati, Coupé, abbiamo macchine moderne, sono un campione di tutte quelle macchine che abbiamo vendita in Belgio. Ma questo giro saranno a Bologna e vi invitiamo a venire e a guardarle sul nostro stand che troverete sulla fiera di Bologna. Grazie e spero di vedervi lì!